A Teramo, a seguito dell'arresto dell'ex assessore e costruttore Quintino Stanchieri, rinchiuso in isolamento in una cella del carcere Castronio all'età di 81 anni e con una invalidità al 100%, Antonio Topitti, noto libraio terramano e figura di primo piano nella locale associazione partigiana, ha scritto una lettera aperta a tutte le autorità competenti per chiedere che l'ex assessore ritenuto colpevole di reato finanziario possa scontare la pena nel proprio domicilio, visto la sua grave condizione fisica. Stanchieri infatti in carcere da mercoledì scorso perché è diventato esecutivo il cumulo di pene per complessivi 4 anni e 7 mesi. Penso che sia un grondosenso e anche immorale una cosa simile perché il codice prevede che si possa scontare la pena anche presso il proprio domicilio. Aggiungo pure che attualmente da notizie stampa ma anche da personaggi del campo della politica che si sono recati presso il carcere di Castronio è anche sovraffollato. Una situazione molto delicata ha avuto delle risposte ad oggi? Sì, io ho fatto dei post su Facebook, poi ho pubblicato questa lettera aperta, ho notato che oggi parecchi organi di stampa, di carta stampata l'hanno riportato, ieri su web è stato molto diffuso e i commenti alla sta grande maggioranza sono stati tutti positivi dei concittadini terramani che sono intervenuti in merito a questo problema. Io mi auro che si attivano quanto prima tutte le personalità competenti in merito e anche amministratori o parlamentari come il sindaco o i parlamentari del territorio per far sì che questa persona possa scontare la propria pena presso il proprio domicilio. Cosa che ormai la pena per le sue colpe della vita se ne ha commesso le sta scontando abbondantemente soprattutto in rapporto alle sue ragioni di salute.